Musica Benvenuti in questo mio nuovo video C'è stata la patch 9.4 di Fortnite E guardate un po' Hanno completato il robot Guardate quanto è grosso Qui c'è un braccio del T-Rex Poi guardate i piedi Uno del panino e uno del pomodoro Guardate la faccia dell'orsacchiotto E un altro braccio della Alla Deriva Praticamente sono gli elmetti che ha la skin singolarità Comunque guardate quanto è grosso questo robot Guardate Sono state svelate tantissime nuove cose nella patch 9.4 Ci farò più avanti dei video Guardate intanto il robot gigante Guardate anche il dietro, il jetpack Guardate Guardate quanto è grande questo robot Comunque questo video finisce qua Spero che ti sia piaciuto Mi raccomando iscriviti al canale Per stare sempre aggiornati su Fortnite Lasciami un mi piace per supportarmi Commenti e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzuoli 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 Grazie a tutti.